Ragionare e confrontarsi sulla qualità delle statistiche a partire dalla nuova edizione del Codice Italiano non è un esercizio teorico, ma risponde piuttosto alla necessità concreta di tutti gli uffici di statistica, ivi compresi quelli regionali, ovvero di riflettere su principi, criteri e metodi alla base della nostra attività. In che modo dunque è utile il Codice delle Statistiche nella prospettiva peculiare di enti territoriali come quelli regionali? Al mio modo di vedere l'utilità di questo strumento è sintetizzabile in due diversi aspetti. Innanzitutto, in parziale contrasto con la sua etichetta, il Codice non costituisce tanto e solo un insieme di enunciati e di prescrizioni, ma è piuttosto un utile punto di riferimento per qualificare i processi e i prodotti finali. D'altra parte, in linea generale, la qualità e l'organizzazione con cui vengono svolte le attività statistiche sono fattori che ne determinano i risultati finali e, d'altro canto, migliorare la qualità delle statistiche significa anche contribuire a soddisfare meglio le esigenze degli utenti interni ed esterni dell'ente, offrendo supporti solidi per le decisioni e, nello specifico, degli enti regionali per funzioni complesse come ad esempio la programmazione, il cui esempio più recente è il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il cosiddetto PIAO. In secondo luogo, il Codice rappresenta un importante scenario entro cui riportare i confronti e le riflessioni attorno agli aspetti tecnici, la correttezza metodologica, la granularità delle informazioni, la tempestività, per citarne solo alcuni, oltre che per favorire il rafforzamento del capitale umano impegnato in questi processi. Si tratta di elementi centrali del lavoro degli uffici di statistica e, in questo senso, il Codice può certamente contribuire ad incentivarne una loro evoluzione positiva.